ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube cosa offre le mani un accessorio particolare che farà contenti tantissimi di voi perché in tanti sotto delle recensioni degli incisori laser e mi chiedono se esiste un accessorio che permette di fare incisioni differenti dalle solite su una superficie piana oppure con il rotary su oggetti cilindrici bene questo permette di fare tantissime cose permette di incidere su superfici sferiche quindi per esempio questa pallina di natale con il mio logo ma permette anche di incidere su superfici come per esempio questo calice che tra l'altro è in vetro ma possiamo incidere anche su superfici cilindriche complesse come ad esempio questa tazza che non si potrebbe mai mettere sul rotary perché questa impugnatura insomma andrebbe a sbattere quindi non si potrebbe utilizzare ovviamente lo fa anche su superfici cilindriche e ci permette di incidere pure anelli perché a questa parte che ha la forma di un mandrino quindi vi farò vedere tutte le varie caratteristiche ve lo descriverò insomma per quello che riguarda le varie impostazioni ma ci tengo a farvi vedere che è un prodotto di ottima qualità costruito bene massiccio pesante stabile sul piano di lavoro soprattutto dritto fatto davvero bene sia per quanto riguarda la gommatura che ha un ottimo grip la silenziosità e insomma tutto ragazzi è fatto davvero molto bene infatti costa costa circa 240 euro sul sito del venditore io cercherò di farmi lasciare diversi link diversi codici di sconto in modo da farvi risparmiare il più possibile ma è un articolo destinato sia a chi deve utilizzarlo per lavoro perché non tutti in girano quotidianamente per esempio degli anelli e questo ci permette di incidirli quindi un orificeria che si occupa di vendita di bigiotteria comunque articoli personalizzati sicuramente con questo tipo di accessorio si può sbizzarrire ma mettiamolo sul bancone e guardiamolo vediamo innanzitutto il contenuto della confezione all'interno troviamo un piccolo manuale di istruzioni dopodiché passiamo direttamente agli accessori che ci permettono di fare diversi tipi di incisione all'interno di queste bustine invece troviamo diverse viti e qualche accessorio quindi ancora componenti i dotati di ruote queste solitamente si utilizzano per l'incisione di calici eccetera qua abbiamo questo accessorio con questa ventosina per trattenere degli oggetti che abbiano una forma sferica e poi il rotary vero e proprio questa volta per fortuna un rotary che sia già montato solitamente arrivano in rotary da assemblare in mille pezzi questo invece arriva già montato pronto per essere utilizzato ovviamente vengono dati in dotazione anche dei piedini si possono avvitare uno all'altro come vedete abbiamo una parte filettata è una parte femmina pure filettata quindi si possono unire uno all'altro e decidere quindi l'altezza piedini gommati con un sistema tramite questi dati che permette di fissarlo nella parte bassa del telaio e allora diamo un'occhiata quindi a rota iniziamo con la configurazione più semplice quella che ci permette di incidere oggetti cilindrici ovviamente per prima cosa bisogna connetterlo tramite questo ingresso e va collegato tramite il capo che viene dato in dotazione con diversi tipi di collegamenti quindi è possibile utilizzarlo anche su altri incisioni laser al cavo che alimenta il motore dell'asse y e quindi una volta avviata l'incisione anziché muoversi l'asse y inizieranno a ruotare questi rulli dando la rotazione all'oggetto che si trova su di esso ma per poter incidere degli oggetti che siano cilindrici ovviamente avremo anche un'altezza maggiore sommata all'altezza del nostro rotary quindi vengono date in dotazione dei piedini come vedete sulla sinistra e sulla destra si vedono i piedini che sono montati su questo incisore e vi farò vedere anche alcune riprese per farvi vedere come si può montare a diverse altezze dato che questi piedini sono sovrapponibili e ci permettono di regolare l'altezza in base alle nostre esigenze abbiamo la possibilità innanzitutto di regolare la distanza tra questi due cilindri in gomma che hanno davvero un ottimo grip perché è una gomma morbida che permette di fare presa anche su superfici liscia abbiamo la possibilità di regolare la distanza fra due rulli semplicemente svitando il pomello di destra di pomello di sinistra e abbiamo anche questi riferimenti in modo da poterlo posizionare in modo allineato quindi una volta stretto se fosse necessario potremmo regolare la tensione della cinghia semplicemente svitando e poi spostando quest'altro pomellino che dà la tensione corretta alla cinghia in modo da evitare che la stessa rimanga lenta quindi per prima cosa guardiamo l'incisione di questa borraccia è una borraccia che io porto al poligono da questa parte c'è un'incisione della glock da quest'altra parte ho voluto incidere un'immagine con scritto no can no fan perché al poligono ci si diverte quindi guardiamo l'incisione di questa borraccia in acciaio utilizzando appunto semplicemente i rulli in modalità rotary viste quindi le riprese di questa incisione relativamente semplice perché di rotary ne esistono tanti diciamo fanno quasi tutti la stessa cosa solo che c'è chi lo fa bene c'è chi lo fa male e questo rotary le cose le fa davvero bene guardiamo adesso l'incisione per esempio delle palline di natale come si fa per poterlo utilizzare allora bisogna svitare queste due viti quando lo troglierete dalla confezione non saranno messe in questo punto ma io vi consiglio di lasciarle sempre avvitate per evitare di smarrirle quindi posizioniamo questo pezzo da questa parte mettiamo le viti in modo che si blocchi quindi una volta fatto questo bisogna montare il mandrino che però in questo caso ho montato gli accessori per incisione sugli anelli basta svitarli e mettere al suo posto gli accessori specifici per le palline di natale allora come vedete io ho deciso di utilizzare i fori più vicini al centro ma in base al diametro di quello che dovete incidere è possibile decidere di avvitarlo verso l'esterno possiamo allargarlo semplicemente così con le mani inserire la sfera al suo interno e poi ovviamente in base alle dimensioni dovremmo stringere fino a trattenerla però in questo modo cadrebbe quindi ma utilizzato quest'altro accessorio che tiene la pallina in posizione per poterlo montare basta semplicemente spostare di nuovo questi rulli verso l'esterno in questo modo lasceremo spazio al nostro mandrino e dobbiamo avvitarlo facendo in modo che questa parte con queste due sagomature vado a finire all'interno di questo binario quindi si avvita questo pomellino e il mandrino è in posizione per poter incidere basta posizionarlo così al centro inizialmente si può stringere anche manualmente nel caso in cui si tratti di incisioni su oggetti metallici eccetera si possono utilizzare come si fa con i mandrini del torno questi due accessori che ci permettono di allargare e stringere imprimento più forza quindi in questo caso come vedete ruotando ci permetterà di incidere sia per tutto il suo perimetro oppure concentrandoci solo sulla zona centrale ma ricordatevi che non potrete incidere nelle zone più esterne perché altrimenti andrebbe fuori fuoco per poterla rimuovere basterà quindi allargare spostare leggermente sostituire la pallina già incisa con una da incidere fare la procedura apposta adesso guardiamo anche l'incisione di questa pallina ma abbiamo detto che possiamo utilizzarlo anche per incidere forme complesse ad esempio questa tazza su questo scritto merry christmas and happy new year il nome di mia figlia alice e poi un fiocco di neve a questa impugnatura che quindi non ci permetterebbe di posizionarlo sui rulli per fare questo dobbiamo rimuovere l'accessorio che serve a trattenere gli oggetti sferici e dobbiamo posizionare la nostra tazza in modo che venga trattenuta da questo mandrino esattamente come si fa col torneo quando si deve fare una lavorazione dobbiamo quindi allargare e in questo caso sì in questo caso è necessario utilizzare assolutamente gli accessori per allargare e stringere in modo da dare una buona tenuta perché altrimenti c'è il rischio della stessa tazza cadra giù quindi stringiamo in questo modo quando siamo sicuri che la tazza è posizionata nel modo corretto allora prenderemo questi accessori e potremmo stringere ovviamente in base alle dimensioni sia della tazza che del manico perché può essere più o meno sporgente c'è il rischio che lo stesso vada a urtare sul piano di lavoro quindi fate come ho fatto io eventualmente sollevatelo di poco io ho utilizzato due fogli di compensato da 3 mm quindi lo sollevate le 6 mm questo ha permesso di girare liberamente per tasse molto più piccole tipo tazzine da caffè eccetera sicuramente a questo rischio non si corre quindi guardiamo anche l'incisione di questa tazza sia con riprese dettagliate che con un time lapse ma stavo dimenticando di dirvi una cosa molto importante ovviamente è necessario mettere questa cinghia altrimenti il nostro mandrino non ruoterà per poterla posizionare bisogna metterla da questa parte poi da quest'altra parte e spostandolo leggermente verso destra metteremo in tensione la cinghia quindi in questo modo potrà ruotare esattamente sincronizzandosi alla rotazione dei rulli per quanto riguarda l'incisione degli anelli vi ho già fatto vedere come si rimuovono ovviamente per poter mettere i tre accessori si fa la procedura opposta però ci tengo a farvi vedere quanto sia preciso questo mandrino quindi chiudendolo tutto come vadano a combaciare perfettamente i tre pezzi è veramente fatto molto bene tra l'altro è metallico in alluminio un buon peso si sente che è robusto e anche per quanto riguarda la fluidità ragazzi centratissimo fatto davvero molto bene quindi vediamo anche l'incisione dell'anello semplicemente utilizzando tre di queste bacchette che vanno abitate a posto di queste viti e che hanno questa parte sull'estremità con questa sagomatura che permette all'anello di rimanere posizionato correttamente quindi diamo un'occhiata ad un incisione anche se poi in realtà su quel tipo di materiale non sono riuscito ad incidere perché non si prestava però ci permette comunque di capire qual è il loro funzionamento che oltre che per gli anelli può essere utilizzato per qualunque altro tipo di oggetto per esempio dei tappi da personalizzare o tanti altri oggetti che abbiano forme simili quindi guardiamo il video e ora passiamo all'incisione dei calici allora per poter incidere calici basta semplicemente stringere i rulli alla larghezza corretta quindi come abbiamo visto poco fa basta sfidare queste due parti stringere fino ad ottenere la distanza corretta dopo di che dobbiamo mettere il nostro calice in questa posizione però come vedete la parte posteriore va verso dietro quindi bisogna utilizzare quest'altro accessorio che permette al gambo di rimanere nella posizione corretta in questo modo daremo la possibilità al nostro calice di ruotare quindi riusciremo ad incidere senza problemi però dovete fare attenzione io vi consiglio di muoverlo o manualmente oppure avviare la rotazione tramite motori perché come vedete a un certo punto si va a posizionare nel punto in cui è più bilanciato perché c'è il rischio come vedrete poi anche da questa incisione che se voi partita in questo modo ovviamente a poco a poco si sposta lo stesso se lo fate in quest'altro modo poco a poco si può centrare quindi muovetelo più volte finché non trovate l'allineamento corretto a questo punto saprete che il nostro calice durante la rotazione rimarrà fermo in questa posizione e ci permettere di incidere nel modo corretto perché quando fa dei movimenti rapidi purtroppo c'è quel rischio in questo caso si è spostato leggermente però guardiamo innanzitutto il video di questa incisione dopodiché guarderemo tutte le incisioni da vicino ovviamente questo accessorio è regolabile in altezza per quanto riguarda la distanza e il posizionamento a destra sinistra possiamo farlo manualmente perché bilanciato in modo che qualunque peso si applichi da questa parte non possa assolutamente spostarsi perché il peso va scaricare su questa base nella parte bassa abbiamo dei piedini che sono in gomma che offrono davvero un ottimo grip una gomma morbida che gli permette di rimanere stabile e queste due ruote sono molto fluida quindi permettono una rotazione senza alcun tipo di blocco insomma comunque tentennamenti poi per quanto riguarda il mandino vengono date in dotazione anche questi altri tipi di accessori che sono molto più adatti per quanto riguarda le tazze oppure altri oggetti cilindrici mentre questo ci permette di stringere oggetti di dimensioni differenti e ci permette di lavorare sulle palline presento quelle di natale o altri oggetti sferici con queste abbiamo la possibilità semplicemente di avere questa forma a l che va a stringere su oggetti che abbiano una base perfettamente cilindrica e come avete visto ragazzi questo prodotto è davvero di ottima qualità sia per quanto riguarda i materiali le finiture guardate come è fatto bene da rotali a tutti gli accessori per quanto riguarda fluidità funzionamento precisione eccetera certo non costa poco non è regalato 240 euro non non è una cifra bassissima ma è rivolto a chi deve utilizzarlo spesso a chi comprandolo sicuramente può monetizzare può guadagnare quindi recuperare la spesa in pochissimo tempo se sia un'attività nella quale si fanno questo tipo di lavorazioni sicuramente in breve tempo si riescono a recuperare se invece si è semplicemente degli hobbisti e si vuole avere degli oggetti di ottima qualità delle incisioni fatte bene su diversi tipi di superfici allora posso soddisfare anche lobbista quindi non mi rimane che di lasciarvi il link giù nel primo commento nella descrizione spero di abbinarlo anche di un codice di sconto non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace qua giù cliccando sul pollice nell'insù cliccate anche sulla campanella per attivare notifiche ci vediamo tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto